Bella Gianda! No, non mi sono mai chiesto se ti danno più cucchiaini in un tubetto o in un barattolo di maionese Ma visto che oggi non c'è niente da fare, verifichiamo! Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua! Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua! Vitello delle anni! 29! 1! 31! Tubetto! Barboni!